Nell'anno dei moti del 1848 sulla stampa italiana si dibatteva delle grandi questioni risorgimentali. Una di queste questioni era il ruolo della donna nel risorgimento italiano. E uno dei giornali che parla di questo è l'Italia Rigenerata, una delle diverse testate nate e poi chiuse nel giro di pochi mesi in quell'anno. L'Italia Rigenerata, andiamo a vedere la testata, questo è il numero 33 del luglio del 48, leggiamo il sottotestata, giornale di politica, scienze, letteratura, teatri, arti e commercio. Su questo numero, nella pagina seguente, si legge proprio un articolo dal titolo quanto mai esplicativo, che richiama peraltro il nome stesso del giornale, Rigenerazione delle donne italiane. Nell'articolo che è di fatto un appello alle donne, si legge Questo è il senso dell'articolo che continua. Ma con riscatto dell'indipendenza e libertà nazionale, alla quale esse pure consacrano ricchezza, spirito e sangue, l'educazione loro va a incominciare una nuova era. L'articolista dell'Italia Rigenerata richiama anche le donne ad assumere un ruolo chiaro all'interno del risorgimento italiano e continua dicendo Rivolto alle donne, le quali più non si lasceranno condurre per le parole, ma saranno ammesse a studiare e si andiono alle cose scientifiche, discuteranno con discernimento le ragioni del viver domestico, avvieranno l'educazione dei loro pargoli, a quello scopo che la rigenerazione della patria reclama. Ancoresse verranno a domandare una porzione di quell'intelligenza e facoltà di discutere sulle pubbliche cose che per tanto tempo le vennero negate. Io credo che se vogliamo capire il ruolo, il significato di questo avvicinamento tra risorgimento e le donne, sia fondamentale cominciare a riflettere subito sul termine risorgimento, che non è un termine che abbia una valenza direttamente e immediatamente politica. Risorgimento vuol dire anche risorgimento morale, vuol dire rinnovamento etico, vuol dire uscire dalle spirali di una decadenza che c'è stata politicamente ed economicamente nella penisola perché gli italiani e le italiane hanno perso le virtù antiche. Allora, è proprio se noi pensiamo a questo aspetto che forse riusciamo a capire perché le donne non costituiscono un fattore aggiuntivo del risorgimento. Sono parte specifica e fondante del programma di rigenerazione della nazione. Tra i personaggi chiave del 1848 c'è proprio una donna e si tratta di Cristina Trivulzio, fondatrice del giornale politico Il Crociato. Il Crociato è appunto il giornale diretto fondato dalla Trivulzio, giornalista, poetessa, antitetica politicamente all'idea del Mazzini e lo leggiamo perché lo scopriamo in questo numero del giornale perché la Trivulzio risponde con questo lungo articolo, adesso ne vedremo alcuni pezzi, risponde proprio a un articolo dell'Italia del Popolo, il giornale diretto e fondato da Mazzini. Leggiamo E scrive ancora la Trivulzio rivolgendosi a Mazzini Continuando sulla stessa pagina il lungo intervento di Cristina Trivulzio, che all'inizio si rivolge con estremo garbo al Mazzini, rispondendo a un suo articolo, più avanti leggiamo un linguaggio che già cambia un po' di tono, veniamo dunque alle mani e vediamo se un giorno o l'altro avranno fine queste eterne gare e se volti essendo verso la stessa meta non ci sarà possibile il tenere la stessa via. Antirepubblicana e fusionista, la Trivulzio scrive nei confronti di Mazzini. E' un lungo intervento perché poi continua per ben tre pagine, questa è la pagina successiva, l'intervento si chiude qui, alla terza pagina, andiamo a vedere la chiusura dell'articolo con la firma del direttore Cristina Trivulzio, lo leggiamo, che peraltro si chiude all'inizio di un altro articolo dal titolo Alcune osservazioni sugli ostaggi, dedicato alla polemica con il governo provvisorio circa il trattamento degli ostaggi in quel periodo. Io ho una serie di donne che cominciano a scrivere sempre più numerose, scrivono poesie, ma scrivono anche giornali, tengono in qualche modo delle scuolette private per cercare di diffondere a livello di certi medi cittadini quel minimo di conoscenze che vadano al di là dell'alfabeto e che invece di perdersi nelle spire della danza o dell'acquerello magari insegnino la storia nazionale, magari insegnino la geografia della nazione, quindi che diano alcuni dei connotati di una cultura collettiva che può essere per tutte fondamentale. Anche il Repubblicano è una delle testate giornalistiche pubblicate in Italia soltanto per pochi mesi nel 1848. Sul Repubblicano, sul numero che abbiamo preso in esame che è quello del maggio del 1848, giovedì 4 maggio 1848, vi voglio far notare sotto la testata una citazione di Vittorio Alfieri Leggi e non re, l'Italia c'è. Al centro di questo numero del Repubblicano c'è un interessante articolo che è praticamente un appello dal titolo alle donne italiane. Se gran parte dei nostri concittadini, ignorando il vero significato della parola Repubblica, lasciasi sopraffare dalle grida e dalle declamazioni di chi vuole nuovamente avvinghiarci di catene, qual meraviglia che le donne, facili tanto ad allarmarsi e assai meno educate alla conoscenza del vero, a tutta voce si mostrino nemiche di quella forma di governo che dovrebbero anzi per mille ragioni prediligere e l'appello continua, così vi faccio leggere più avanti che cosa viene chiesto alle donne italiane. Il linguaggio è proprio un linguaggio di appello accorato alle donne. O quanta influenza avrete voi sulla saggezza e moralità dei popoli, voi che amanti e spose dirigete con dolce imperio la mente dell'uomo, che madri nei cuori ancora vergine ad ogni corruttela potete piantare i germi di quelle virtù che un giorno svilupperanno eroiche e generose passioni. È dal labbro materno che l'uomo riceve la prima educazione da cui è guidato per tutto il cammino della vita. La satira riguardava spesso le donne. In quegli anni del Risorgimento erano molto importanti i salotti e c'erano delle grandi donne, delle patriote, che riunivano nei loro salotti a Milano, a Torino, a Napoli, a Roma un po' meno, e diciamo coloro che si battevano per l'indipendenza, per la libertà d'Italia. E quindi venivano anche prese un po' in giro, perché naturalmente la donna allora non aveva la libertà di oggi, non c'era questa parità di diritti, ma queste donne comunque erano donne molto forti, erano donne ricche, erano le mogli di personaggi potenti e quindi potevano sviluppare tutta un'azione patriottica e i giornali si divertivano spesso a prenderle in giro. Anche prima dell'Ottocento c'era per esempio Eleonora Pimentel de Fonseca a Napoli, una grande patriota che venne impiccata e c'era il tirapiedi, perché il boia impiccava la donna e c'era un ragazzo che la tirava per i piedi in modo da accelerare la morte e c'erano su parecchi giornali napoletani delle caricature addirittura di pessimo gusto naturalmente su questa povera patriota Eleonora Pimentel de Fonseca che per la sua fede giacobina venne condannata morta e impiccata. Grazie. 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 Grazie.